Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. 157 anni e non sentirli. Ricorre oggi l'anniversario della nascita delle Capitanerie di Porto, istituzione che conta in tutta Italia 11.000 donne e uomini in divisa e che in estate sono più che mai impegnate a garantire la sicurezza in mare. Un percorso iniziato a Firenze nel lontano 20 luglio 1865 con il reggio decreto a firma di Vittorio Emanuele II che sencia a tutti gli effetti l'istituzione del corpo e che continua a guardare oggi alle sfide del futuro. Per l'occasione nei vari comandi regionali e locali si sono tenute delle commemorazioni anche a ricordo dei militari caduti. A San Benedetto, presso l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, era presente anche il Capitano di Vascello Donato De Carolis, direttore marittimo delle Marche. Oggi celebriamo i nostri 157 anni di anniversario del corpo, un corpo che, seppure centenario, è ancora un corpo giovane, un corpo che è pronto ad accettare, l'ha sempre fatto, ma ancora più oggi ad accettare quelle che sono le sfide del futuro. In un mondo che va alla velocità della luce, dove tutto è in movimento, il corpo del Capitano di Porto fa anche la sua parte. A fare gli onori di casa, il comandante della locale Capitaneria, Marco Mancini, che oltre a condividere con il personale e le autorità i principali risultati raggiunti nei suoi due anni a San Benedetto, ha fatto il punto sull'Itar dell'atteso dragaggio del Porto. Diciamo che siamo a buon punto, perché da poco tempo abbiamo avuto l'esito delle tanto attese caratterizzazioni dei sedimenti dei fondali dell'imboccatura del Porto, un esito che è stato estremamente favorevole, lo definirei, in quanto buona parte delle sabbie sono risultate riconducibili alla categoria A, quindi utili ai fini del ripascimento costiero, e una parte residuale, sia pur minima, è riconducibile alla categoria B e quindi dovrà essere riallocato in mare e una parte ulteriore, sempre ancora più residuale, di categoria C e quindi dovrà essere posizionato in vasca ricolmata. Sulle tempistiche, il comandante Mancini non si sbilancia, ma secondo il cronoprogramma illustrato nell'ultimo consiglio comunale dall'assessore Bruno Gabrielli, bisognerà attendere la fine dell'anno. L'istruttoria è in mano all'autorità di sistema portuale di Ancona che avrebbe individuato la spiaggia della Sentina come quella dove portare le sabbie di categoria A, mentre si stanno individuando anche delle aree a largo dove trasferire i sedimenti di tipo B non compatibili con il ripascimento.